la festa di avvenire giunta ormai alla sua settima edizione lo slogan di quest'anno è testimoni di futuro per questa tre giorni di incontri in cui l'obiettivo è quello di approfondire i principali temi di attualità dalla guerra in Ucraina al divario nella sanità tra nord e sud e proprio sulla festa di avvenire ma anche sui problemi della nostra regione e su come affrontarli in particolare per quanto riguarda la sanità il nostro Giovanni Rivelli ha intervistato il vescovo di Matera Monsignor Cagliazzo vediamo Monsignor Cagliazzo la festa di avvenire torna in Basilicata ormai è un legame stabile cosa significa questo per questa terra sono sette anni di seguito a parte una piccola pausa per la pandemia che la stiamo facendo significa molto molto perché abbiamo l'opportunità di incontrarci di ascoltarci e attraverso anche persone che uomini e donne vivono un'esperienza concreta nella vita dove sono direttamente coinvolti in tutte quelle che sono le problematiche che d'altronde sono comuni a tutti ma in modo particolare nella nostra terra di Basilicata per cui abbiamo l'opportunità di dialogare attraverso l'ascolto serio e propositivo e nello stesso tempo ecco seminare quei segni di speranza che ci permettono di guardare avanti fiduciosi perché questa nostra terra ha bisogno di quel colpo d'ali necessario e indispensabile in questo momento si parte dalla sanità un tema caro alla chiesa di Basilicata ne parla anche nel suo documento la consulta delle associazioni laicali diciamo che in questi anni lo stiamo toccando quasi sempre il tema della sanità non soltanto quest'anno maggior ragione quest'anno perché se è vero che esiste un problema nazionale esiste un problema del sud della sanità esiste in modo particolare un problema della sanità della Basilicata in questo momento anche Matera stessa diciamo che se andiamo avanti in questo modo da qui a pochissimo tempo all'ospedale di Matera non so se esisterà ancora per cui bisogna intervenire seriamente perché non resti solo ed esclusivamente un luogo dove solo alcune prestazioni è un diritto perché è l'uomo che ha bisogno di essere curato è l'uomo che ha bisogno di trovare ciò che altrove si trova per quale motivo noi dovremmo partire dovremmo andare fuori quando qui abbiamo la possibilità ci sono delle eccellenze noi abbiamo delle eccellenze però purtroppo spesso e volentieri le eccellenze che noi abbiamo per mancanza anche di strutture per mancanza di mezzi che non vengono offerti alle eccellenze alle menti locali sono costretti ad andare via e questo è un peccato originale oserei dire che c'è nella nostra terra di Basilicata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti